Scusi, che cosa ne pensa delle truffe agli anziani che stanno accadendo a Dischia? È un guaio, perché c'è gente in mala fede che approfitta delle povere anziane. È una cosa cattiva. E secondo lei che cosa bisogna fare? Gli dico quello che pensa. Io mi farò la giustizia da solo se fossi parente degli anziani, perché della giustizia italiana non ci si può fidare. Magari lo prendono adesso e fra un'ora e già passano a fare altre truffe. È così che succede. Purtroppo non è solo a Dischia, ci sono altre parti che succede. Bisogna stare attenti. Chi ha degli anziani in casa, parlai. Però purtroppo molto spesso gli anziani non sono neanche lucidi. Perché se piglia un anziano che è lucidissimo, non lo truffi come lo truffa. Non è che quello crede alla telefonata che dice il nipote che deve pagare un debito. Non ci crede. Uno che è lucido non ci crede. Questo è il fatto. L'altro pure sulle mail, arrivano delle mail, lei deve pagare queste, le ha fatte queste. A me arrivano tante mail che tendono a truffare. Come si potrebbe rimediare questa cosa? Ripeto, i figli, chi sta vicino all'anziano deve stare attento. Gli anziani che sono soli? Gli anziani che sono soli è un guai. Ci vorrebbe qualcuno che li aiuta. Se non so, qualche assistente, il comune, gente di buona volontà. Gli anziani purtroppo non devono essere lasciati solo. In qualche maniera o l'altro, chi amministra il paese si deve anche preoccupare degli anziani solo. Bisognerebbe censire, vedere in che condizioni sa che ci sono anziani che non sono auto-officenti, però stanno da su, basta andarci nelle loro case, vedi, sporco. Poi ci sono anziani che tengono 80-90 anni, sono più auto-officenti di me. Noi siamo le vittime, vittime di tutto, perché loro hanno un vantaggio, loro hanno un vantaggio in tutto, che ci danno una spinta, noi siamo a terra. Grazie.